Dottoressa, sono mesi di rispetto al protocollo e a una comunità che glielo sta dicendo. Abbiamo le carte protocollate, voi non ci volete ascoltare e volete spettare questo posto. Ok, mi dia un appuntamento, domani mi saremo, ma ci faccio entrare qua. Ci faccio entrare. Veniamo in duecento, in duecento veniamo, in duecento. Vediamo quel protocollo firmato da lei, non da lei, firmato dalle istituzioni. Vediamo con tutto, ma lei ci deve fare entrare qui dentro, perché abbiamo contesto di 6 euro. Ma chi è partito? Ma di cosa stiamo parlando? Il Dottor Galasso, l'abbiamo letto, il Dottor Galasso ha detto che vogliono stanziare 35 miliardi. Ma di cosa stiamo parlando? E di tutto io rispondo. Innanzitutto tu stai parlando con me. Ma stai parlando con il Dottor Galasso. Non ha mai lasciato indietro di me. No, 10 anni! 10 anni! 27 novembre, che cosa avete votato? Cosa avete votato? Cosa avete votato il Dottor Galasso? Cosa avete votato il Dottor Galasso? Ma lo stavo dicendo tutti! Questa è Città di Danza, però facendo così. Per eliminare il Dottor Galasso che è stato portato su cui deve essere attivato tutto un processo di partecipazione. Ma di cosa stanno parlando? Per eliminare il Dottor Galasso che viola il Dottor Galasso del 2014. Quale protocollo? Il protocollo di impiesa sull'autorecupero. Se l'autorecupero, se l'ha messo in Dottor Galasso. Quello ci ha avuto la vostra. Il Permanente vi ha avuto l'Attore? Il Permanente vi ha avuto l'Attore. Nel suo intervento di collaborazione con la cittadinanza. Quale cittadinanza, sessura? Non ci conosciamo. E quel protocollo non è mai stato votato. Secondo... Questa è un altro progetto. Ma si, per ora... Quel preliminare che avete votato? È un'altra cosa. i migranti escono fuori e sappiamo come vanno a finire queste cose i migranti dalla struttura non devono giudizie nessun problema nessun problema ora ci fa entrare a casa ci fa entrare a casa o ci vuole di nuovo o ci vuole lasciare qua ci sono 12 i 22 gli dicevo e i 22 del dicembre ci vuole dire a questi in 22 12 domani, dopo domani c'è il lockdown dove vanno questa gente? dove vanno? basta, vogliamo andare a casa basta basta aprite la porta aprite la porta aprite la porta